Buongiorno ragazze, nella gamma 2019-2020 di Salomon arriva la Bellevue, spero si pronunci così, è una tavola freeride carving che abbraccia un pochino tutti quei nuovi shape, quelle nuove forme che vanno ad accorciare la tavola, ad allargarla, è una delle poche tavole da donna che aumentano così tanto la larghezza, solitamente sono misure più viste nel campo maschile, ma sono estremamente funzionali e condivido assolutamente la scelta di Salomon di portare anche nella sua gamba femminile una tavola con queste caratteristiche. Un bel camber arretrato, sposto sotto l'attacco posteriore, vi garantisce tutto il controllo di cui avete bisogno, mentre un rocker nella parte anteriore la fa galleggiare estremamente bene, consente una transizione di curva, insomma da una curva all'altra estremamente morbida e facile, è una vera progressione tra una zona più morbida e rocker, una zona più, diciamo, reattiva a camber che vi spara fuori dalla curva, pronti per entrare con morbidezza nella curva successiva. Facile anche da gestire, in fresca, sicuramente di grandissimo impatto, di grande divertimento tra i boschetti e nelle zone un pochino più strette. Gli inserti in basalto, la punta coda, contribuiscono ad aggiungere un pochino di tono a questa tavola, rendendola veramente stabile anche quando le velocità si alzano. La soletta è un sinterizzato rifinito a pietra, molto molto scorrevole, i fianchetti ammortizzano molto bene le vibrazioni, insomma un pacchetto freeride carving veramente veramente divertente. Se vi incuriosisce, volete chiederci qualcosa di più, qua sotto nei commenti, per email o sui canali social siamo sempre disponibili, se invece volete provarla date un occhio alle nostre uscite, sicuramente ci sarà la possibilità, basta restare sintonizzati sul nostro sito. A presto, boom!